da più di due anni il mondo è impazzito penso che siamo tutti d'accordo su questo ma adesso tutte le restrizioni sono state tolte in moltissime nazioni a parte qui in italia il che porta a farsi delle domande perché per la visione del video completo andate su www.tinelli.eu e attraverso la pagina indice alfabetico cercate virologia ha stravolto alla grande il significato virus